Eccoci tornati in studio per la terza ed ultima parte del nostro notiziario AC News. Torniamo adesso ad aprire la consueta finestra sull'attualità. Dure e toccanti le parole del segretario della Lega Pro Ghirelli, unico candidato alla presidenza nelle prossime elezioni, che con una nota ufficiale si scusa con le società e con i tifosi alla vigilia del rientro in campo dei club coinvolti nel blocco dei ripescaggi. Ringrazio i presidenti di Catania, Novara, Provercelli, Robursiena, Ternana e Dentella per la loro passione e lo stile con cui hanno affrontato questo periodo, dice Ghirelli. Grazie e scusate lo rivolgo anche ai club che saranno impegnati nei recuperi delle gare e ai milioni di appassionati e tifosi di queste squadre e di tutte quelle che militano in Lega Pro. Si riparte con la passione in campo e sugli spalti, unite alla consapevolezza che si lavora per un calcio che deve cambiare tutti insieme. Arrivati alle battute finali della questione del blocco dei ripescaggi in Serie B e in attesa anche di capire come si pronuncerà il Consiglio di Stato il prossimo 15 novembre, cominciano anche ad arrivare le prime stangate in classifica. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ha combinato infatti sazioni pesanti alle società risultate inadempienti a vario titolo con la Covisoc e con le procedure di iscrizione al campionato. Nel girone A, quello in cui milita l'Arezzo, troviamo infatti tre punti di penalizzazione al Cuneo, prossimo avversario del Cavallino, un punto di penalizzazione alla propria Cenza con in aggiunta anche un'ammenda di 500 euro, un punto di penalizzazione all'Arzachena e poi ben 11 punti di penalizzazione alla Lucchese. Nel girone B tra le penalizzate troviamo anche la Triestina che va a meno 1, nel girone C invece un punto di penalizzazione al Siracusa, un punto di penalizzazione alla Juve Stabia, poi anche al Rende, 8 punti per il Matera con un'ammenda di 2.000 euro e poi un punto di penalizzazione al Trapani e 2 al Monopoli. Diamo adesso uno sguardo anche alle partite che ci attendono questo weekend per il decimo turno di campionato Serie C, girone A. Avremo sabato in anticipo Pistoiese-Alessandria che si giocherà alle 20.40, poi appunto alle 16.30 di domenica l'Arezzo che ospiterà il Cuneo, sempre alle 16.30 anche al Zachena Olbia, l'Albissola in casa della Carrarese, il Propatria che ospiterà il Pontedera, poi Lucchese in casa della Pro Piacenza. In posticipo invece lunedì alle 20.45 Juventus Under, 23 Piacenza. Torneranno in campo poi anche Gozzano, Siena, Provercelli, Novara, Virtus, Sentella e Pisa. Guardiamo anche adesso la classifica come è cambiata dopo le penalizzazioni. Abbiamo il Piacenza che resta sempre in testa al girone con 16 punti, l'Arezzo seconda posizione in solitaria a 15 punti, a 14 troviamo Pisa e Carrarese, nel filotto degli 11 abbiamo Olbia, Alessandria e Juventus Under, 23, a 10 punti la Pro Vercelli e il Pontedera, il Cuneo appunto con i tre punti di penalizzazione scende a 9 e con un punto di penalizzazione scende a 9 anche la Pro Piacenza. A 7 punti Novara e Propatria, quota 5 per Siena, Arzachena che appunto da 6 scende a 5, Pistoiese e Gozzano. La Virtus Sentella resta con i tre punti vinti sul campo del Gozzano nella prima giornata di campionato e poi a 2 abbiamo la Lucchese che si è beccata il meno 11 e l'Albissola matricola di questo girone. Male per la Berretti che incappa nel turno infrasettimanale del 31 ottobre nella prima sconfitta stagionale. La squadra Under 19 di mister Alessandro Longo ha infatti giocato a V9 contro il Torino il recupero della prima giornata di campionato, Iamaranto dopo quattro vittorie di fila sono stati sconfitti per 3-0 perdendo così l'imbattibilità. Questa prima sconfitta fa scendere dunque l'Arezzo Under 19 al secondo posto in classifica bloccandola a 12 punti. Andiamo adesso a vedere anche quello che sarà il programma del settore giovanile per questo weekend. Si parte subito domani con la Berretti di Mister Longo che alle ore 14.30 sul campo di Palazzo del Pero sfiderà la Virtus Entella. L'Under 17 giocherà a Siena sul campo dell'Acqua Calda domenica 4 novembre alle ore 15 contro la società del Robur Siena. L'Under 16 domenica alle ore 15 a Pordenone, l'Under 15 giocherà sempre domenica alle ore 11 contro il Siena, campionato a specchio con l'Under 17. Poi avremo gli Under 14 che giocheranno tra le Muramiche di Palazzo del Pero domenica 4 alle ore 11 contro il Pisa. trasferta sul campo Monteboro per l'Under 13 di Mister Gorgoni, sabato alle ore 18.30 infatti andrà in scena Empoli-Arezzo e poi piccoli di Vincenzo Bove, l'Under 12 giocherà invece domenica 4 alle ore 9 sul campo Luciano Giunti dell'Olmo Ponte. La partita sarà un derby aretino-Arezzo-Tuscar. Turno casalingo per l'Arezzo in Rosa di Mister Lorenzini che affronterà il Ravenna tra le Mura Amiche del Campo Bruno Nespoli al villaggio Dante di Arezzo. L'appuntamento è domenica 4 novembre alle ore 15 sperando in quella che magari potrà essere la prima vittoria casalinga di Capitan Teci e compagni. Termina qui l'ultima edizione di questa settimana del nostro notiziario AC News. Io prima di salutarvi vi ricordo ovviamente l'appuntamento questa sera alle 19.50 con Amaranto World, il programma condotto dal direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci. Vi ricordo che potrete trovare Arezzo Channel su tutti i principali social network, specialmente sulla pagina Facebook Arezzo Channel 2018, potrete rivedere lo storico di tutte le puntate trasmesse da Teletruria e trovare tante altre curiosità. Io vi do appuntamento a lunedì sempre alle 13.20 con AC News. Grazie per averci seguito e buon fine settimana a tutti.